FEDE TV, TV DI COMUNITÀ Pensi che le prestazioni degli studenti possano migliorare con un cambiamento della didattica attuale? Come la cambieresti? Sì, allora io credo che cambiando la didattica attuale si potrebbero migliorare le prestazioni dello studente e i metodi di cambiamento potrebbero essere sicuramente il maggior coinvolgimento degli studenti durante le spiegazioni dei docenti quindi appunto momenti di circle time dove gli studenti possano tirar fuori loro quelle che sono le soluzioni della materia oppure per education, comunque un dialogo continuo con gli studenti e non solo le lezioni frontali Perché non è un dialogo affatto? Un professore che stiga la solita lezione e gli studenti che prendono appunti ma non è una cosa partecipata ed attiva anche degli studenti stessi Ad esempio si potrebbero fare o dei corsi pomeridiani oppure delle materie a scelta facoltative che siano relative all'attualità, a temi dell'attualità oppure anche appunto dell'informatica perché ormai sappiamo che non possiamo vivere senza avere una minima cultura anche a livello informatico e anche materie come il diritto e l'economia È scandaloso secondo me il fatto che non vi sia un'educazione civica proposta agli studenti banalmente perché sono i futuri cittadini di questo paese e non sono in grado non sanno nemmeno come si va a votare e cosa si deve fare e questo è un problema, serio Grazie